Hai avuto qualche disagio con la vicinanza della metro? Sì, i disagi ci sono perché ogni volta che passa la metro sentiamo un forte rumore e molte volte si sentono anche delle vibrazioni date dal passaggio della metro. Avete avuto qualche effetto nella struttura? Sì, diciamo che la struttura è stata danneggiata, è iniziato tutto dalla costruzione della metro e prosegue di anno in anno con il passaggio della metro. E che tipo di effetti ci sono? Sulla struttura? Sì. Sulla struttura? Una parete è stata crepata, cioè si è formata una grossa crepa su una parete che ogni anno dobbiamo andare a sistemare, però ricorre sempre il danno.